Singh Rajinder è il neoeletto consigliere comunale straniero nella sise civica di Venafro. Nella città di Omedea, Rajinder, ma qui tutti mi conoscono come Raggi, ci tiene a precisare, classe 63, sposato e con due figli, vive e lavora da ormai 15 anni. A seguito dell'affermazione elettorale dello scorso 10 giugno, Raggi è stato convocato a Palazzo Cimorelli per firmare la determina di nomina. Nell'occasione per il neo consigliere l'opportunità di metter piede per la prima volta nell'aula consigliare accolto da un funzionario comunale. Qui, già a partire dalla prossima sise, troverà posto con la possibilità di esercitare tutte le prerogative previste dal regolamento comunale che istituisce disciplina tale figura. Il consigliere straniero aggiunto potrà dunque partecipare alle sedute e prendere parola su tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Mi piacerebbe aiutare le persone e dare voce agli stranieri che vivono qui a Venafro, ha affermato, visibilmente emozionato, il nuovo inquilino di Palazzo Cimorelli. Sono molto felice per questa elezione. Mi trovo molto bene a Venafro. Voglio aiutare la città. Insomma, da Venafro, un concreto esempio all'insegna dell'integrazione e della partecipazione alla cosa pubblica di quei cittadini extracomunitari che da anni risiedono e lavorano, spesso duramente, fornendo il proprio contributo alla crescita e al benessere della città.